il concetto nella seduzione. Allora, come fare a diventare la priorità di una persona? Quindi come sviluppare quelle attitudini per diventare la priorità di una persona? Allora, la prima cosa che devi fare è il tuo comportamento. Devi imparare a gestire il comportamento. Intanto devi cercare di diventare la priorità per la persona giusta. Quindi quello che io suggerisco sempre è non innamoratevi a muzzo, non innamoratevi a caso. Cercate una persona con la quale condividi i vostri valori, le vostre credenze. Perché cara Malgasciona, se tu ti innamori di un libertino, cara Malgasciona che vuoi una storia seria, se ti innamori di un libertino, oppure di uno sposato, oppure di uno che ha delle dipendenze da droghe, alcol, eccetera, eccetera. Oppure da un catramista a cassa integrato scroccone, diciamo così. Beh, non è che fai un buon affare. Oppure ti innamori di persone gelose, men che meno, non le accenno neanche, ma persone violente, persone, diciamo, persone che hanno questa cosa. Beh, è un qualcosa che non ti porta a nessun vantaggio. Ora, un libertino potrebbe anche innamorarsi, no? Però se tu conosci una persona che ha 40 anni di onorato libertinaggio alle spalle, quanto tempo pensi che ti possa essere fedele? Se per te la fedeltà non è un problema, il fatto che magari vada a letto con altre donne non ti dà fastidio, allora non c'è problema. Ma è evidente che, come dire, noi non possiamo stravolgere, come dire, il modus operandi delle persone. Quindi, certo, magari per un tempo breve, le tecniche di seduzione, io che insegno tecniche di seduzione, funzionano quando c'è comunque un terreno fertile tra le due persone, quando c'è un humus comune, quando ci sono dei valori condivisi, quando c'è qualcosa, una visione della vita simile. Se tu, la tua visione della vita è che vuoi il matrimonio a tutti i costi e vuoi anche due figli, e quello è la cosa peggiore per lui, è sposarsi, avere figli. Come è possibile che ci sia questa unione? Non può esserci. Ora, non è neanche possibile che al 100% ci possa essere, ci possa essere un'assonanza, ma perlomeno al 70%, quindi dovete più o meno, ovviamente, valutare se avete delle cose in comune, una visione della vita comune, fondamentalmente, per il 70%. Allora le tecniche di seduzione funzionano, perché è quel qui di in più che ti permette di giocare, ma ripeto, la seduzione deve essere vissuta come un gioco, un gioco dove tutto è consentito fondamentalmente, no? La seduzione funziona basandosi proprio sull'ambiguità, basandosi sul dubbio, non sulla certezza, perché la certezza non seduce. Se tu dai certezze, sarai certa che quella persona ti metterà all'ultimo posto della catena alimentare, diciamo, non sarai più la sua priorità. Se vuoi diventare la sua priorità, devi mantenere intanto il giusto distacco dal risultato, giustamente, ma poi devi far sì che l'altra persona ti veda impegnata, ti veda, come dire, come una persona da inseguire, non come una persona che basta che schiocchi le dita e arriva scodinzolando. Perché molti pensano che questo schiocca le dita e quella arriva scodinzolando. E se tu schiocchi le dita e quella non arriva, allora hai voglia di schioccare le dita. Bisogna che questa persona ti veda impegnata, ti veda, diciamo, ti veda comunque con tante situazioni, perché un po' di tensione devi generargliela. E come dice Giorgio Cameli, non puoi comprare le acciughe e lamentarti che siano salate. È ovvio che un libertino farà quello, come dice giustamente Giorgio. Ma poi devi fargli passare indirettamente il messaggio che nella tua vita nessuno è indispensabile. Cioè lui non deve pensare che tu credi che quella persona lì ti sia indispensabile. Tu devi far passare il messaggio caro ciccio, se ci sei, ci sei, se non ci sei, fuori dai maroni. È anche importante, fin tanto che non c'è una cosa, avere anche altri interessi, insomma. Queste sono le condizioni principali. Poi un'altra cosa è, diciamo, imparare a gestire le sue emozioni. Quindi sei tu che devi somministrare emozioni, non lui che le somministra a te. Quindi dovrai giocare con la tecnica push-pull, un po' esserci, un po' non esserci, non essere eccessivamente disponibili. Essere misteriosa. Essere misteriosa perché? Perché se noi siamo misteriosi l'altra persona può proiettare. Se io ti dico tutte le cose come stanno, tu che cavolo proietti. Se invece tu riesci a mantenere una lode di mistero, riesci a non essere, l'altra persona tenderà a proiettare su di te quelli che sono i suoi bisogni. E la morca nulla amata, ma perdona, questa stronzata detta da, diciamo, da Dante Alighieri, ti tornerà utile perché sarà lui che penserà che il suo amor, che tu lo ami perché lui ti ama. E quindi sfruttiamo anche la morca nulla amata, ma perdona, ma a nostro vantaggio, sapendo che è una cosa falsa, ma che però le persone tendono a proiettare. Perché la morca nulla amata, ma perdona, è figlio del meccanismo della proiezione, no? Le persone credono, se io lo amo è evidente che lui ama me, ma invece non è evidente per un par di balle, non è evidente per niente. Ovviamente ci vuole reciprocità nella relazione, bisogna che entrambi vogliono più o meno la stessa cosa. Ci deve essere un sentire comune, ci deve essere una sintonia, ci deve essere anche una visione della vita simile, una visione della vita comune. Ci devono essere dei valori, anche degli interessi in comune, perché sembrano cazzate, ma se uno, come dire, è interessato alle pecore che producono l'anamerinos e tutta la sua vita è dedicata alle pecore di l'anamerinos e l'altro è dedicata ad altre cose, non è difficile che poi le cose possano andare avanti nel tempo. Chi ti ama ti dà tempo, energia, attenzioni. Esatto, chi ti ama entra in sintonia con te, si crea una sintonia fondamentalmente con questa persona. Questo è fondamentale, se si crea una sintonia. Però noi dobbiamo cercare, anche se siamo iperlogici, possiamo creare comunque una sintonia con le persone. Ovviamente devi anche essere disposta a, come dire, a non, a vivere, ad accettare il fatto che una persona non possa essere coinvolta con te. Perché poi c'è anche questo, no? La cosa peggiore che può accadere è quando scopri che una persona non è coinvolta con te, tu ti accanisci su quella persona. L'accanimento non funziona mai. Accanirsi su una persona è sempre sbagliato, è sempre il bacio della morte e della seduzione. Quindi se tu riesci a mettere in atto queste strategie, se tu riesci a sviluppare, diciamo, questo mindset, perché poi tutto è un discorso veramente che dipende dall'atteggiamento che abbiamo, allora sarà più facile conquistare, sarà più facile sedurre. I messaggi contrastanti quali sono? I messaggi contrastanti sono, come dicevo prima, basati un po' sulla psicologia inversa. Ti dico una cosa e faccio il contrario, che tra l'altro è quello che non bisognerebbe mai fare nell'educazione dei figli, no? Per dire. Perché purtroppo la seduzione è un altro mondo rispetto, ad esempio, nell'educazione dei figli la cosa peggiore che uno può fare è mandare messaggi contrastanti, dire, che ne so, una cosa e fare l'opposto, no? Perché generi schizofrenia praticamente nei figli, che non capisco. Anzi, c'è qualcuno che dice che l'eziologia della schizofrenia può nascere proprio da un figlio che è in posizione bloccata, autostatica e gli si danno messaggi contrastanti. Quindi questo nell'educazione è sbagliatissimo, ma invece nella seduzione è fondamentale. Nella seduzione è fondamentale. Quindi la seduzione non segue le regole della vita normale, della vita comune. Anzi, spesso la seduzione segue proprio regole contrastanti. La seduzione è il mondo, diciamo, dell'incanto, è il mondo della fantasia, è il mondo del dubbio. Se tu inizi a dare certezze non sei più seduttivo, non sei più seducente. Ripeto, questo per quanto tempo devi farlo? Beh, fin tanto che non si crea quella sintonia profonda, quel legame di anima tra due persone in cui non è più necessario mettere in atto le tecniche di seduzione. Però è anche importante avere una corretta visione della realtà. Cioè è inutile accanirsi, se ad esempio se una persona ti rifiuta, è inutile accanirsi a stare lì, ma io lo voglio, io lo voglio, come fanno nel malgascione, io lo amo, io lo amo. Bisogna avere il coraggio di accettare, non dico la sconfitta, ma il fatto che noi non è che possiamo fare innamorare chiunque. Se mi interessa una donna e non la faccio innamorare, amin, avanti un'altra. Come dire, non è che mi faccio le paranoie o il coso. E dovete, ognuno deve farsi sta cosa qua. Se ti interessa una persona, ma per qualche motivo suo, carmico, non lo so, ti rifiuta, fa un culo, avanti un altro, non ci sto a perdere energie. Questo vuol dire avere comunque una buona autostima, perché se non abbiamo una buona autostima non incassiamo il corpo. Cioè bisogna imparare ad accettare il rifiuto. Il rifiuto fa parte della vita. Dobbiamo imparare ad accettare il rifiuto se vogliamo ottenere dei risultati. E queste, secondo me, sono le migliori strategie di seduzione che si possono mettere in atto e funzionano veramente se si mettono in atto nel modo giusto, con l'atteggiamento giusto e con la persona giusta, perché la tecnica di seduzione va messa in atto con la persona giusta, non va messa in atto con chiunque, perché con chiunque non funzioni. Io non posso sedurre una persona che palesemente mi rifiuta, una persona che non devo neanche perderci energia. Ecco, quindi questo è un po' il concetto di fondo. Bene, nel frattempo iscrivetevi al canale, a tutti i canali, attivate la campanella e ovviamente seguitemi su tutti i canali.